Parliamo dei predestinati. I predestinati hanno già un talento molto sviluppato. Qual è il loro contadente bebole? Che spesso non lo sanno e quindi possono nascere con le ali e se un'aquila si sente una gallina è chiaro che sarà poco tentata di volare perché sono una gallina, non sono in grado di poter volare. E quindi hanno già un talento fondamentale, possono svilupparlo. Spesso sono poco consapevole di avere questo talento. Il nostro compito è rassicurarli, fargli capire che hanno questo talento e incoraggiarli a entrare velocemente nel mondo del lavoro. I predestinati, se ben guidati, entrano velocissimamente nel mondo del lavoro. Vero Raffaele? Sì, prof, eccomi. Mi sentite? Sì, so che questa cosa si può mettere un po' a disagio, mi hai detto. Comunque, sei un predestinato, quindi... Sì, no... ...e neanche te l'aspettavi, solo che noi lo sapevamo. Sì, ringrazio per questa etichetta o appellativo, se si può definire così. Sì, mi trovo un po' a disagio, come diceva, nel dover, in un certo senso, spiegare questa collocazione. Però sì, devo dire che comunque dopo aver seguito il Master e dopo aver fatto questa esperienza, comunque ne sono uscito parecchio convinto, comunque pieno di un certo senso di consapevolezza. e trovare lavoro è stato comunque, come diceva lei prima, esso stesso un lavoro e quindi con un po' di determinazione, di convinzione, poi alla fine è arrivata una buona proposta. Grazie mille per la tua testimonia!